Tartarughe ninja della IDW numero 57, città in guerra, disponibile in libreria e in fumetteria da Panini Comics. Bapalabababab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe ninja. Sembra ieri che ho parlato del numero 56, nel frattempo non ho ancora fatto nessuna retrospettiva, vi ricordo che dobbiamo recuperare dal numero 20 al numero 49 e poi avremo parlato di ogni singolo numero di questa fantastica serie a fumetti edita negli Stati Uniti, appunto dalla IDW e in Italia dalla Panini Comics, una saga che è iniziata inizialmente in edicola per poi invece essere stata dirottata, purtroppo, in fumetteria e in libreria perché, ahimè, si sa, è un po' di nicchia. Sta a noi, fan di questa magica testata, divulgare il più possibile le sue storie in modo che magari diventi un po' meno di nicchia. E ragazzi, il numero che ho tra le mani è davvero figo. Tutte le lamentele che ho fatto negli ultimi video, sugli ultimi numeri, tutto quello che, tra virgolette, avevo chiesto speranzoso, si è realizzato. Questo numero è quanto di migliore potessi leggere nel mondo delle tartarughe ninja da un po' di tempo a questa parte. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno una nuova quinta sorella e di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo numero, di questo video. E seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok. Cominciamo un attimo dalla copertina. Come notate, è molto diversa dalle ultime quattro copertine. Le ultime quattro copertine, per esempio, riportavano una singola fotografia di ogni singola tartaruga ninja, Michelangelo, Donatello, Raffaello e Donatello, e facevano riferimento a una delle tre storie che c'erano all'interno del numero. Precisamente non la storia principale, che segue un filone più corale, ma la storia, chiamiamola così, in appendice, la terza storia. Ebbene sì, perché negli ultimi tempi, sicuramente negli ultimi quattro numeri, ma anche prima, ci sono state tre storie all'interno di questo numero, che è, adesso così a occhio, mi sembra, comunque più di 90 pagine, sicuramente, sì, secondo me è un 96 pagine questo numero. E ci sono state tre storie. La principale, che in un certo senso va a concludersi, in questo numero 57, una storia secondaria, ambientata, niente po' di meno che negli inferi, nell'inferno, dove vediamo Shredder o Rokusaki, l'anima di Shredder, che cerca in qualche modo di svincolarsi dal suo destino, e una terza storia, che appunto era un piccolo flashback di qualche tempo addietro, incentrata su una singola tartaruga. Non a caso, in questo numero, invece, c'è una copertina totalmente diversa, innanzitutto perché sono finite le storie in appendice, ma perché questo numero contiene non, bensì non tre storie separate, ma è diviso in questo modo. C'è la storia principale, su Spans c'è la storia di Shredder che finalmente arriva a una conclusione e si interseca alla storia principale, terza parte in cui continua la storia principale, intersecata appunto da quello che abbiamo letto nella storia, nell'intermezzo di Shredder. Questo intermezzo di Shredder che finalmente non è più fine a se stesso, non è più parallelo, che non incontra mai la storia principale, ma siamo arrivati a un dunque, siamo arrivati a un perché abbiamo letto la storia di Shredder fino ad ora, la storia di Shredder all'inferno fino ad ora. Finalmente si ricongiunge il tutto alla storia madre. Ma cosa è successo di preciso in questa storia finora? Cosa mi ha portato ad apprezzarla così tanto? Innanzitutto parliamo un po' delle fazioni che ci sono in ballo. La storia si apre con un flashback di Bishop, che come sapete, se avete visto le mie storie precedenti, non è altro che un essere umano. È un essere umano però deforme, nato in un corpo che non cresce mai, in un corpo deforme che non cresce mai. Se avete presente la Marvel, è come se fosse un piccolo modoc, quindi ha una testa più grossa rispetto al corpo, ma in generale è, diciamo, un adulto grande così. E grazie, diciamo, alle conoscenze del padre, che era, non so se nella CIA, nell'FBI, comunque era nei servizi segreti, e alla tecnologia U-Tron, il suo padre ha creato un esoscheletro molto simile all'esoscheletro che ha Krang nei cartoni animati dell'87, che lo nascondono al mondo esterno e lo fanno sembrare un umano. La cosa che più è interessante del personaggio di Bishop è che è la classica persona che è diversa dall'umanità. Può essere presa in giro, può essere schernita, può essere bullizzata, e quando viene messa di fronte a una scelta, quando viene messa, viene messo di fronte a persone o esseri diversi come lui, in questo caso i mutanti, le persone di questo tipo, cioè in generale non le persone diverse, in generale una persona può essere messo di fronte a un Bibbio, può e fa una scelta. Mi schiero dalla parte di chi è diverso come me perché capisco cosa si prova a essere diverso, a essere schernito per il proprio aspetto, a essere bullizzato, oppure faccio sì che questo diventi il mio nemico, che io sono diverso, sì, ma sono pur sempre umano, e quindi mi schiero con quelli come me, anche se mi hanno schernito fino all'altro ieri, se mi hanno bullizzato fino all'altro ieri, e combatto contro chi è più diverso, chi è più debole ancora di me, chi dovrebbe avere la mia comprensione ma invece ha solo il mio odio, la mia frustrazione gettata su di loro. Ecco, Bishop è la classica persona che esiste nella vita reale che fa questo secondo tipo di scelta, diventando a tutti gli effetti una persona orrenda, una persona orribile, è una persona che poteva fare della sua esistenza un esempio e invece ha scelto la fazione sbagliata. Questa cosa viene ricordata brevemente nelle prime pagine di questo numero. Si torna al presente dove la città è completamente nel caos. Vi ricordo che Baxter Stockman ha appena vinto le elezioni a sindaco di New York e stava facendo il suo comizio elettorale di vittoria quando Vecchio Diavolo ha pensato di vendicarsi di tutti gli umani. Vi ricordo che Vecchio Diavolo è l'opposto di Bishop. Vecchio Diavolo praticamente ormai odia gli umani indipendentemente da chi siano alleati dei mutanti o meno e getta una bomba mutagena in centro a New York dove c'è questo comizio. Quindi fondamentalmente noi ci stiamo ritrovando un sacco di elettori di Baxter Stockman immaginatevi che gente che potrebbe essere mutati, mutati in animali. Ora non so bene come funziona la mutazione perché sono tutte mutazioni molto diverse tra loro immagino che ognuno a casa avesse avuto un contatto con un animale e questa chiaramente è una mutazione molto simile a quella di Bebop e Rocksteady quindi con un mutageno che trasforma un essere umano in un animale. Il cartone animato dell'87 ci insegna l'ultimo animale con cui sei stato a contatto. In tutto questo caos mutante scelta di parole non casuale abbiamo anche la guerra tra il clan del piede e Karai e il clan amato che continua in perterrita. Il clan del piede fino a poco tempo fa era comandato dal maestro Splinter che aveva preso il posto di Shredder dopo averlo sconfitto e ucciso decapitato nel numero 30 tra i 35 non ricordo e Karai che inizialmente non voleva il potere del clan del piede infatti se n'era andata per il mondo viaggiando è tornata con una spada una spada magica che corrompe chi la brandisce rivendicando la sua eredità del clan del piede e di fatto spodestando il maestro Splinter cosa che poteva essere fatta con un accordo pacifico ma poi si sa ci vanno di mezzo alcuni piccoli dettagli che fanno scontrare le due parti tant'è che Karai invece se l'è preso il clan con la forza imprigionando a tutti gli effetti il maestro Splinter e sconfiggendo anche per maggioranza di numero le tartarughe ninja che ora sono nascoste Dulcis in fundo devono anche salvare il professor Laila e la moglie dalle grinfie di Metalhead che ormai è completamente impazzito mi è un pochino dispiaciuto che la trama di Metalhead si risolva in poche pagine peccato però magari è semplicemente stato messo in pausa dato che è un robot e magari non so lo vedremo un po' più avanti però avrei preferito una conclusione più più articolata più lunga mentre la prigionia del maestro Splinter è resa un po' meno solitaria dalla presenza del re dei topi che non capisco bene cosa voglia dal maestro Splinter ma non lo sta soggiogando semplicemente gli sta tenendo compagnia mentre cerca di fuggire a pugni dalla prigione appunto di pietra in cui è stato rinchiuso vi ricordo che nel clan del piede di Karai di Oroku Karai ci sono già dei mutanti ci sono c'è lo squalo adesso non mi ricordo i nomi mi perdonerete c'è lo squalo c'è questo uccello rapace che ha perso le ali e c'è questa specie di come posso definirlo un opossum enorme che tra l'altro scopriamo in questo numero che non è neanche un mutante ma è un essere umano che è soggetto a una maledizione legata alla spada che vi ho citato prima ma in passato tra le schiere mutanti di Karai c'erano anche i Bebop e Rocksteady che poi sono usciti dal clan per fare un viaggio anche interdimensionale temporale indipendente però in questo numero sono ritornati ecco non mi piace molto che siano tornati totalmente a caso magari ci sono delle side story in cui vediamo perché quando sono ritornati ma qua nella pubblicazione italiana non sono state mostrate non sarebbe la prima volta però vabbè non c'è problema era giusto inserire anche loro mi è un po' dispiaciuto che sono stati inseriti un po' così a cazzo le cane dal momento che Donatello e i suoi fratelli hanno salvato appunto il professor Lila e la moglie dalle grinfie di Metalhead come ho detto poco fa proprio mentre la FTP la forza di protezione terrestre comandata da Bishop stava facendo invasione nel quartier generale del professor Lila o comunque dove cavolo stavano costruendo questo portale Donatello ha avuto la brillante idea di travasarsi di travasare tutta la battaglia all'interno del clan del piede dando vita uno scontro alla messicana di tre fazioni bellissimo da leggere in cui ci sono appunto Bebop e Rocksteady che in un certo senso danno involontariamente una mano alle tartarughe ninja perché stanno combattendo con i due cloni di Slash i cloni di Slash che vi ricordo non hanno una mente ma sono comandati proprio da Bishop e da Han il papà di Casey Jones che non perde mai un'occasione per fare la scelta sbagliata scopriamo per l'appunto che la storia di Shredder all'inferno che cerca in qualche modo di separarsi dal fatto di essere una reincarnazione dell'immortale dragone tra l'altro che secondo me è un riferimento al nemico della serie tartaruga ninja the next mutation o tartaruga ninja l'avventura continua del 97 dove il nemico principale non era Shredder ma era questo dragone scopriamo che tutto questo percorso infernale porterà Shredder alla resurrezione resurrezione tra l'altro voluta da Kitsune stessa Kitsune vuole far resuscitare Shredder ma in un certo senso vuole far resuscitare il drago che è un immortale ma non è un fratello degli immortali del pantheon che abbiamo visto finora ma è il padre di Kitsune quindi mi pare di capire che sia sopra al pantheon degli immortali che abbiamo visto finora per compiere questa resurrezione Kitsune soggioga soggioga Karai rubandole appunto questa spada maledetta che serve per compiere un rito di resurrezione serve anche la testa di Shredder che è stato decapitato da Splinter ma fortunatamente la testa non è in possesso di Kitsune è ancora in possesso del maestro Splinter ormai Splinter e Shredder hanno fatto pace si definiscono di nuovo fratelli come un tempo non c'è più uno spirito di vendetta tra di loro e come hanno fatto a fare pace comunicando sul piano astrale mentre Splinter meditava aiutava Shredder a uscire dall'inferno ed è quindi proprio con Shredder che si allea per impedire la resurrezione di questo spirito dragone ci sono tante microtrame in gioco che si chiudono in questo numero di fatto chiudendo una saga per poi aprirne un'altra diversa una saga appunto scusate una microtrama appunto è quella che è il contrasto padre figlio tra Han e Casey Jones Han che vuole che Casey abbandoni per sempre i mutanti infatti di fatto si è alleato con Bishop mentre Casey Jones non abbandonerà mai i suoi amici e Jennica che è stata mutata anche lei in una tartaruga abbiamo ancora un piccolo conflitto finale tra Han e suo figlio proprio per questo argomento ma quando Bishop sta per sparare a Casey Jones proprio perché lo ritiene un traditore della razza umana Han si mette in mezzo di fatto proteggendo col suo corpo Casey dimostrando che tutto quello che ha fatto finora l'ha fatto proprio nella sua visione distorta per proteggere il figlio e di fatto si è redento prima di morire che poi sia morto o no non si è capito però da come hanno intavolato la scena è probabile che Han ci abbia lasciato un'altra trama che viene chiusa è chiaramente quella tra Bishop e il regno mutante rappresentato in questo scontro da Leonardo Leonardo e Bishop sono i ferricorti stanno combattendo e Bishop sta avendola meglio ma finalmente sul finale Raffaello salva aiuta Leonardo di fatto distruggendo l'esoscheletro robotico di Bishop ma si sa Raffaello è ormai non ce la fa più è in preda alla rabbia totale anche perché si sente mortalmente in colpa per aver aiutato vecchio diavolo a sganciare la bomba mutagena non ce la fa più è accecato dalla rabbia sta quasi per strappare o meglio strappa dal corpo robotico il vero corpo di Bishop e lo sta per uccidere lo sta uccidendo di botte e come vi ho detto all'inizio Bishop è realtà un corpo umano molto piccolo e che quindi con poche percosse potrebbe morire Leonardo finalmente lo ferma e annulla un pochino la rabbia di Raffaello abbracciandolo anche perché narrativamente non farebbero mai uccidere qualcuno a un protagonista buono come Raffaello ma quindi come viene eliminato Bishop dai giochi viene eliminato da un clone di Slash un clone di Slash si risveglia un attimo dal torpore con qualche reminescenza dello Slash originale si ricorda quanto Bishop ha maltrattato suo padre e schiaccia di fatto uccidendolo il corpo reale di Bishop abbiamo anche una sottotrama con Michelangelo Donatello che si devono occupare dei famosi orfani gli orfani che hanno fatto scattare il litigio tra Carai e Splinter sul sul proseguimento nel clan del piede vediamo anche questa fantastica tavola che richiama una delle prime tavole di un giovane Spider-Man negli anni 60 in cui appunto riescono a salvare gli orfani e per farli non trovare più dal clan del piede li trasferiscono sul pianeta neutrino in tutto questo un drago si forma nelle strade di New York e inizia a devastare la città comandato da questo spirito dragone all'interno del corpo senza testa di Oro Kusaki che appunto porta dall'inferno una schiera di demoni che iniziano a fare un sacco di danni a New York il maestro Splinter come vi dicevo possiede ancora lui la testa ormai scheletrica ormai è un teschio di Oro Kusaki e grazie a questo a questo teschio riesce a riprendere il controllo del corpo di Saki di fatto risuscitandolo e facendolo tornare alla ragione questa risurrezione di Oro Kusaki fa sì che il drago venga annullato annientato sconfitto si accascia al suolo come uno dei una delle astronavi chitaure nel primo Avengers questo però richiede troppo sforzo al maestro Splinter che si accascia a terra morendo attorno a tutta la sua famiglia vi faccio vedere la tavola perché tanto se state seguendo finora è perché o lo avete già letto oppure non avete paura degli spoiler l'era di queste tartarughe ninja che abbiamo visto fino adesso si conclude con la morte del loro padre del loro maestro Splinter tutta la famiglia allargata è attorno a lui e attorno alla diciamo al corpo di Splinter vediamo oltre i quattro fratelli Leonardo Donatello Michelangelo e Raffaello vediamo anche Alopex che è diciamo l'amica del cuore di Raffaello la fidanzata non so come descriverla vediamo Nessuno che è Angel l'amica di Casey Jones Casey Jones e Jennica che appunto ormai è trasformata tutti gli effetti in una quinta tartaruga vediamo in uno dei due epiloghi di questo numero Amato Yoshi che finalmente ritrova la sua amata Tangsheng nell'oltretomba nell'aldilà l'altro epilogo che penso aprirà a un arco narrativo differente ma non credo sarà quello principale ci mostra un Leatherhead che vi ricordo aveva mangiato aveva divorato Krang per i suoi crimini contro l'umanità che sta male ha dei movimenti di pancia non si sente affatto bene proprio mentre il professor Honeycutt spiega che ha scoperto come hanno fatto dei cervelli come quelli degli utrom a dominare il pianeta scopre che è perché sono dei parassiti e vediamo un'immagine in cui diciamo Krang spunta di nuovo dalla pancia di Leatherhead di fatto gestendolo come gestisce come siamo abituati a vederli gestire i corpi robotici i loro esoscheletri quindi mi aspetto di vedere Leatherhead comandato da Krang per qualche numero sperando che venga liberato al più presto fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero se l'avete acquistato se non l'avete acquistato avete visto il video se vi ho fatto venire voglia di acquistarlo e di recuperare o i vecchi numeri o comunque di acquistare quelli futuri scrivetemelo qua sotto nei commenti scrivetemi anche il vostro personaggio preferito non mi riferisco solo alle 4 tartarughe ninja ma in generale se c'è un personaggio oltre alle 4 tartarughe che preferite scrivetemelo qua sotto nei commenti io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video